Ciao ragazzi e ragazze, qualche anno state King nel mio canale, eccoci di nuovo tornati con un nuovissimo video, il 32esimo episodio del nostro rototriflette su Football Manager 2015 con la nostra incredibile squadra che nell'ultimo episodio ci ha regalato due bellissime vittorie nette, proprio 4-0 e 3-0 senza subire gol come voglio io oggi cercheremo di proseguire la nostra strisce di vittorie, possibilmente col più ampio scarto possibile di gol appunto, come abbiamo fatto nell'ultimo episodio la prima contro il Chievo in casa, partita apparentemente semplice, ma sapete che con Football Manager bisogna litigare anche tanto perché ti bagga l'impossibile Lando ci dà le istruzioni, il nostro modulo 4-5-1, tutti i titolari tranne Tevez che l'ho messo in panchina come avevo detto, metto Morata perché Tevez sta facendo molta fatica a segnare, invece Morata lo vedo più pronto, infatti ho inserito lui, centrocampo il nostro solito con Griezmann, Pogba eccetera eccetera, con il nostro Arnott che in tre partite ha fatto due gol e un assist, quindi sta andando più che bene ed è un esterno tra l'altro, e la difesa a 4 con Ballanta al posto di Chilini perché Chilini si è infortunato, si qui 5-6 settimane ed è una brutta notizia, visto che oltre a lui era già infortunato Caceres che non tornerà prima delle due settimane quindi adesso dovrò fare a meno di due buoni difensori per un bel po' di tempo la prendo io, grazie Bonucci, ok, Griezmann a Pogba, 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 mamma mia Pogba la sua possenza, la sua possenza, la sua possenza, la sua possenza la palla è lì però la palla è lì Griezmann, Griezmann che... che gol di Griezmann, mi sembrava fuori ragazzi la traiettoria era fuori, poi tipo la palla ha fatto tipo un giro e l'ha fatta entrare dentro, Griezmann che gol attenzione Griezmann, la mette in mezzo, cacciatore d'angolo molto buono cacciatore però, cacciatore Griezmann la recupero, mamma mia Bonucci, non so cosa ci fa lì Arnold, la mette in mezzo, grazie, la mette in mezzo Morata gol, 2-0 Alvaro Morata la butta, anticipa il difensore centrale, segna, 2-0 14esimo gol, ha fatto bene ha lasciato il titolare, ha fatto benissimo Royo, anche qui ci sta forse il 3-0 ci sta il 3-0 Balanta, Beppogba, Asamoah, Asamoah Birilli incredibili, Asamoah, Griezmann la parola rimane di Morata gol è già finita il 33esimo le ultime parole famose ma io sono convinto che è già finita Griezmann tira o la passa in aria tira, resumo Griezmann, ma che fate? Si è addormentato Griezmann non sa cosa fare eccolo qua, si posiziona, tiro no, Bonucci gol, 4-0 il portiere va a funghi Belek, ma da dove l'hanno preso questo? dove gioca? dove giocava? come fuori gioco? non li mortacci, 2 e te mai per Paloschi aia ragazzi, qua è brutta la vedo male la vedo male la vedo male fai fallo fai fallo fai fallo no, no no, oddio, no no, dai non posso subire gol così dai, il 45esimo finisce il primo tempo 3-1 non ci vuole gol subito così è brutta mi sono un po' depresso dovrebbero essere più più stabili a volte non lasciarsi prendere cioè perché comunque stanno giocando bene tranne in difesa che hanno risultati bassi cioè hanno fatto molte disattenzioni in difesa e non va bene questo quindi infatti ho bisogno di dare un commento e devono migliorare devono cercare di non farmi prendere un altro gol e io ne voglio segnare altri ragazzi l'obiettivo è 5 gol attenzione Chris Man la mette in mezzo Chris Man Chris Man Palanta gol se fuori gioco spacca anche il computer gol 4-1 4-1 Palanta finisce qui la partita perché già mi stavo preoccupando di un recupero tipo come il pari che era arrivato al 3-2 Chris Man la mette dai che forse raggiungiamo l'obiettivo raggiungiamo l'obiettivo Vidal no Marrone gol 5-1 abbiamo raggiunto l'obiettivo di 5 gol mamma mia Marrone 2-3 stagione si è svegliato anche lui Marrone che devo decidere ancora se Venderti a fine stagione devo decidere bene dove valutare attentamente Cacciatore Cacciatore fa no no Marrone non farti recuperalo Marrone recuperalo 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 oddio no Paloschi mamma mia che parata di Courtois no invece no può recuperare mamma mia ragazzi può recuperare veramente una roba incredibile Morata 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 passala passala al 23 passala al 23 passala al 23 oddio Morata Chris Man no come è fuori gioco è fuori gioco Morata no non è fuori gioco mamma mia durante la sostituzione Morata gol 6 a 1 finisce la partita 6 a 1 ragazzi dominata peccato per il consumito se no sarebbe stato un 6 a 0 di quelli pazzeschi e se non fosse stato per la traversa di Samoa sarebbe stato un risultato stile Germania Brasile dei mondiali felici felicissimi ragazzi chi è giocato male c'è parte Royal nel primo tempo tutti 8 9 Griezmann 9.5 Morata 9.6 3 gol ma ragazzi veramente nulla da aggiungere a questa squadra incredibile ragazzi adesso voglio vedere le statistiche perché le avrò bombardati più di 30 tiri sicuro ne sono convinto perché se no non sarebbe reale infatti sicuramente più di 30 tiri io esatto 31 tiri quindi ci importa va bene come media loro 9 tiri lo lasciate tirare un po' troppo 51 49 il possesso ma questo è secondario il Napoli ha perso e quindi adesso siamo a meno 3 quindi la nostra rincorsa si fa sempre più no scusate ha paereggiato il Napoli perdonatemi quindi la nostra rincorsa si fa sempre più avvincente ma la partita sarà sempre quella con il Napoli all'Univento Stadium il ritorno seconda partita una partita molto importante perché sarà quella decisiva per la Coppa Italia perché giochiamo il ritorno appunto in casa dal 3 a 0 dell'andata la ducita l'istruzione allora come potete vedere dallo schermo io ho messo tutte le riserve in campo tutta addirittura ha cambiato modulo 4-4-2 ragazzi 4-4-2 e titolari ho lasciato beh se consideriamo Balanto come titolare anche se non lo è lui è roio ma se consideriamo titolari veri e propri considerando Tevez insomma è un ragionamento un po' strano quello che sto facendo però innanzitutto ho cambiato modulo perché anche perché allora vi spiego faccio il turnover indipendentemente da se i titolari erano stanchi o meno i titolari come potete vedere sono circa borderline al 90% comunque ma anche se non lo fossero stati io avrei comunque messo le riserve perché devo farli un po' giocare perché sennò magari si lamentano perdono il ritmo partita eccetera eccetera centrocampo tutto nuovo con Romulo Sturaro Pereira e Padoin attacco con Guillermo e Tevez che dovrebbe essere tecnicamente la titolare però Morata segni quindi facciamo che il titolare è Morata in difesa come ho detto prima Balanto prende il posto di Giellini quindi non lo consideriamo come titolare solo roio un titolare poi vabbè le ali deve giocare anche lui perché le ali è una buona promessa un po' come Courtois perché ha 22 anni vabbè questi sono dei piccoli dettagli Landucci dalle istruzioni singole perfetto dobbiamo cercare di gestire il vantaggio ma al tempo stesso di vincere la partita non so chi sia minimamente questo portiere vabbè prendete grazie roio Radose Radosevic ma non giocava col Chievo è una mia allucinazione oddio che gol mi ha fatto assurdo bravo Corda mamma mia ragazzi cioè mi ha segnato uno un generato del di football manager uno che forse manco esiste una partita altamente di merda ma altamente che vabbè che non dobbiamo mantenere il vantaggio però brutta sta partita cioè c'è chi ha giocato male gli attaccanti malissimo ora chi sei Tevez tu vai a cagare perché proprio non stai facendo un cazzo andiamo direttamente alle tattiche devo cambiare i compiti allora Tevez no scusa Morata punta completa come ho sempre messo anche se adesso mettevo uomo dare però anche come punta completa va bene e voglio cambiare anche Romulo e metto il nostro Arnold che scommetto può cambiare la partita si spera sono molto fiduciosi lui istruzioni già date no si già date quindi possiamo iniziare il secondo tempo Cragno spazza la prenderò io almeno una volta la prenderò io almeno una volta si no invece no la prendono sempre loro ma che schifo la dose vince adesso un altro gol come priva no palanta ok chighielmo difendi la palla dai per favore chighielmo non puoi non ti dai per favore però murro per favore bravissimo palanta non è fallo non rubete il cazzo palanta palanta per padoin padoin va bene per morata 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 ma chi l'ha passata sturaro chighielmo 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 la palla è lì chighielmo chighielmo sturaro sturaro di sturaro non è fuorigioco vero no stefano sturaro non credeva nessuno in lui nessuno ma io si l'ho fatto giocare assegnato uno a uno morata morata per favore per favore morata no ok ripendo ancora io chighielmo chighielmo passata ad arnold arnold non è l'epola perfetto arnold arnold morata no che parata ha fatto cragno carlo cragno adesso subisco gol adesso subisco gol no roio no invece no ripartenza ripartenza fulminia morata 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 al 14 al 14 bravissimo arnold arnold scatta scatta è poteroso scatto poteroso scatto poteroso scatto poteroso scatto poteroso oddio fallo rigore lo sapevo bravo radosevic adesso che lo batte scusate 9 che è morata sono un po' preoccupato speriamo non lo tiri dalle stelle no parato lo sapevo lo sapevo ragazzi me lo sentivo balanta ragazzi stanno succedendo miliardi di azioni vado in al 9 ma chi l'ha passata ti prego però ragazzi adesso perdo la partita perché sto gioco è così sto gioco ti deve buggare in tutti i modi cinto ragazzi manca anche il fiato bravo arnold madonna me che passaggio fultrante di merda bravissimo ok a Gielmo Gielmo uno contro uno Gielmo Gielmo tiro gol gollasso di Gielmo gol Gielmo non sbaglia la terza volta morata tu ti devi far perdonare quel rigore sbagliato e ci pensa Gielmo a perdonarlo finisce la partita ragazzi sudatissima questa partita con tutti i giocatori che vanno accendendo dal campo se lo sono meritati dopo un primo tempo bruttissimo un secondo tempo buonissimo infatti voglio dire ai miei giocatori che il secondo tempo è stato molto 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 buono non c'è purtroppo va bene diciamo che complimenti ai ragazzi per aver raggiunto la finale andiamo subito alle statistiche mi manca il fiato perché ragazzi non sapete quanto ho gridato specialmente per il 2 a 1 di Gielmo 21-13 tiri va bene a parte il rigore fallito di Morata che stavo quasi per dire una bestemmia 58-42 possesso va bene non è male da notare la classifica marcatori mamma mia primo ripa della Juve Stabia se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento ed iscrivetevi la registrazione è andata molto per lunghe anche qui si è raggiunto anzi qui addirittura abbiamo superato i 35 minuti di registrazione infatti adesso dovrò mettermi duramente al lavoro per fare un buon edit e tagliare le azioni futili perché ne sono successo un casino non solo con la S1 ma anche la partita con il Cagliari sono successo un casino di azioni e adesso dovrò mettermi al lavoro per tagliare quelle più futili e lasciare diciamo quelle più importanti cercando di tenermi sotto i 15 minuti al video perché se no poi se faccio 16 minuti non solo impiegherò molto tempo per renderizzare e poi uploadarlo su Youtube ma poi ovestamente diventano delle vere rotture di pale perché 16 minuti di video non se li guarda quasi nessuno e non sappiamo tutti tutto questo noi ci vediamo al prossimo episodio bella